oggi è il 16 febbraio e abbiamo deciso di potare questa pianta di arance vaniglia questo ramo qua perché lo stai tagliando? lo sto liberando bene a un certo punto che dà impotenza che non fa entrare su allora quale che tagli di questo ramo? questo va bene questo va bene perché? perché sta al di fuori ah va al di fuori e quindi lo lasci stare invece tagli quello che va al di dentro questo qua che va di dentro ti impedisce solo di entrare lo tagli diciamo che l'obiettivo è sempre quello che il sole dall'alto deve entrare all'interno della pianta e quindi tu tutti i rami che vanno all'interno li tagli se ho capito bene sono diverse categorie di rami ci sta quello là che va all'interno quello che succhia la linfa vitale all'albero quello che va in verticale che tagli e i secchi chiaramente quindi questi sono i rami da tagliare per fare una buona potatura va bene ora provo a farlo io vediamo se ho capito all'interno della pianta che stiamo potando ci sono questi rami che vanno in verticale su e vediamo che effettivamente questa ramificazione ostacola l'ingresso del sole all'interno della pianta quindi io andrò a togliere questi rami qua ciao 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 Grazie.